In compagnia di Erminia Manfredi per me è un grande piacere ritrovarti al Gran Galà delle Margherite. Ma guarda è un dovere venire al Galà delle Margherite che si fa da 26 anni e ogni volta Bianca Lucibelli sceglie un'associazione dove state tranquilli i soldi arrivano dove devono arrivare. Ecco raccontiamo la mission di quest'anno. Ecco non so chi ha scelto ma che comunque tutta questa gente ha collaborato per aiutare questa associazione. E anche noi ci siamo ecco a comunicarlo però attraverso testimonial meravigliosi come te. Ecco quando si parla di eleganza che serve a veicolare un messaggio ceriti ecco tu come la pensi sono utili queste iniziative? Guarda queste iniziative perché il fine giustifica i mezzi si dice allora se siamo qui per aiutare bene per l'eleganza per me è qualcosa di armonioso è qualcosa che ce l'hai nell'animo allora se nell'animo sei armoniosa sei elegante. E questo è molto bello e tu sei elegante perché hai uno sguardo armonioso te lo posso dire Erminia? Ma io mi auguro di avere uno sguardo da persona, da persona che vuole comunicare e che vuole avere uno scambio per il bene di tutti noi soprattutto oggi. E tutto questo è molto bello. Liberi TV si occupa in particolare di eccellenza, di vere e proprie maestranze italiane che ci fanno veramente fiore all'occhiello all'estero. Tu al primo posto ce lo metteresti oggi il cinema italiano come fiore all'occhiello come traino all'estero? Io sempre lo metterei, guarda che siamo bravi e però cadiamo sempre in queste frasi il cinema italiano, il cinema americano. Guardiamo veramente come si fa il cinema e continueremo a dimostrare quanto sia valido l'italiano. Allora chiudiamo con Erminia Manfredi con un appello alla generosità perché detto da te sicuramente veicolerà tutti ad esserlo ancora di più. Le persone qui, se sono qui, tutte per significare che cos'è la generosità. E questo è importante, memorizzate. Grazie. Grazie.